Qui abbiamo la Vigolino che è alla raccolta, però devo dire che il titolare indiscutibile è Enrico Colandone, guardate, tu confermi? Beh, perché il titolare è Enrico Colandone? Come punto di riferimento, è il contrario a loro. Lino e in sostituzione di Lino c'è la Vigolandone. Io è che pensavo che sai com'è. Especialmente che domenica prossima, durante la processione, dà una mano, una valida mano. Quindi confermiamo che il titolare è Enrico Colandone. Ok, grazie, arrivederci. Grazie Rino. Un saluto, non lo vuoi fare? Un saluto, un augurio, di buona sacra, di buona festa. Un saluto di buona sacra, di buona festa e un saluto soprattutto ai nostri compaesani che sono all'estero. Bravo, grazie. Soprattutto. Che tanto ci mancano? Eh, che tanto ci mancano. Che continuassero stasarretti. No, non è vero. Io dico, quello che, cioè io traduco. Non è vero. Tu stai leggendo nel pensiero là. Leggi il pene. No, no, no. Su la capa, qua, leggi il pene. Un saluto, un saluto, un saluto, un saluto sincero, un saluto sincero, un saluto sincero. No, stiamo scherzando, logicamente. Non è ovvio che stiamo scherzando. Un saluto sincero ai nostri compaesani che sono a lei. Grazie Rino, ciao, ciao. Soprattutto quelli di Boste. Abbiamo il piacere di avere questa sera in pezzo a noi un grande amico di Veragia Fusi. Attalanti. Ottimi, 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 come sempre. Un bracione, alto livello, siamo contenti che sono 40 anni, che siamo qua, noi, e se c'è questi amori, questi amici siamo tutti. Sì, stai parlando. Qua lui c'è un bel pescinto, quando riguarda la qualità del Fusino. Ok, ciao, grazie. Grazie. Salute. Salute. La signora, la signora, la signora Angiolina. Angiolina, ok.